Il Consiglio di Amministrazione di Banca 2021 ha deciso di aderire con entusiasmo a questa iniziativa proposta dalla Federazione delle Banche di Comunità della Campania della Calabria, presiduta dal Presidente Amedeo Manzo, che è tesa a favorire un forte riavvicinamento, una ricostituzione del rapporto importante tra le BCC e i giovani soci del credito cooperativo. Infatti tra il 24 e il 25 febbraio esiterà questo incontro a battipaglia, un importante incontro dove parteciperanno tutte le banche che fanno parte della Federazione delle Banche di Comunità della Campania della Calabria e parteciperanno ovviamente dei giovani soci delle banche stesse. Il rapporto tra le banche di credito cooperativo e i soci in genere, in specie con i giovani soci, è molto importante, molto importante soprattutto in questo momento di forte evoluzione economica e normativa ed è la base anche dello sviluppo del credito cooperativo. Fa parte di una delle tante iniziative in tema ISG ovviamente della Banca 2021, del credito cooperativo, del gruppo bancario BCC Crea ovviamente ed è tesa ovviamente a favorire un avvicinamento che possa migliorare il rapporto sia banca cliente ovviamente con i giovani soci ma anche quello di governance perché i soci, sappiamo nel credito cooperativo, sono ovviamente coloro che dettono le strategie nell'assemblea e danno gli indirizzi ovviamente ai consigli delle banche e il rapporto con i giovani soci oggi è sempre più importante perché sono sempre più protagonisti della società e dell'economia. Questi incontri tendono proprio a rafforzare questo legame, questa attività da protagonisti proprio dei soci che devono avere sempre più nelle banche di credito cooperativo. Noi saremo a disposizione ovviamente per fare durante l'incontro per ricevere spunti, ascoltare i giovani soci delle iniziative che vorranno ovviamente proporci con la partecipazione delle banche di credito cooperativo e anche di Banca 2021 e ovviamente porteremo testimonianze, sarà un momento di incontro e di confronto su testimonianze reciproche. Molte banche di credito cooperativo hanno già costituito da tempo le associazioni dei giovani soci e queste sono protagoniste nell'attività di propulsione e di suggerimento e di indirizzo verso le banche di credito cooperativo dalle quali promanano per favorire azioni ovviamente di sostegno e di sviluppo per le comunità dove operano le varie banche. Sarà un momento anche importante per fare formazione finanziaria anche, quindi in questi due giorni che si terranno a battipaglia i giovani soci potranno avere un momento di formazione, un momento di confronto con colleghi esperti, con colloqui anche con Presidente e Direttori che parteciperanno anche attivamente a questa iniziativa e sarà sicuramente un grande momento di condivisione fuori ero di buoni spunti e di buona iniziativa anche per il futuro.